Di proposta ne è arrivata una sola ed era insostenibile. Il sindaco di Varese risponde così alle parole di Giovanni Chighine, amministratore dell'azienda che sta costruendo il nuovo palaghiaccio, che nei giorni scorsi a Rete 55 aveva raccontato di una possibile soluzione al problema della pista provvisoria. L'idea della stessa EVV Impianti fu lanciata l'anno scorso a Palazzo Estense, che la rispedì al mittente. Dopodiché, aggiunge la D, troviamo un'eventuale via di mezzo, meno costosa, ma comunque scartata dal destinatario. Oggi la replica di Galimberti, che conferma la prima e smentisce la seconda, e che indica una linea tra quel che vede come investimento e ciò che considera uno spreco. L'unica proposta ricevuta dal comune di Varese circa un anno fa, da parte della società che sta realizzando l'intervento, il nuovo intervento al palaghiaccio, per la realizzazione della pista provvisoria, è quello esagerato di oltre un milione di euro. Altre proposte non ne abbiamo ricevute, probabilmente sono state consegnate alle società del ghiaccio, ma indubbiamente stiamo parlando di somme che sono fuori dal contesto. Noi come città stiamo realizzando un intervento di riqualificazione del nuovo palaghiaccio, che sarà una delle strutture più belli e efficienti del Paese di oltre 10 milioni di euro. È ovvio che oggi il contesto ci impone di fare delle scelte oculate nell'interesse di tutta la collettività e quindi per pochi mesi spendere queste somme lo riteniamo assolutamente non coerente. Noi sosterremo il ghiaccio, noi abbiamo deciso come città di fare questo investimento perché guardiamo alle Olimpiadi del 2026 e alla possibilità di consolidare l'attività sportiva legata al ghiaccio in città e in provincia e lo vogliamo fare sostenendo il più possibile le società sportive, mettendo a disposizione una pista provvisoria di dimensioni ridotte, che è 40x20, che consentirà comunque l'avviamento e l'attività sportiva soprattutto di coloro che vorranno iniziare a svolgere questo bellissimo sport. Grazie.